Girolamo Culmone, geologo e ambientalista, negli ultimi giorni ha tenuto banco la vicenda del ponte crollato sul fiume San Bartolomeo. Un ponte però che in passato, insomma, un po' di bizze a causa delle forti piogge le ha fatte. Tre almeno sono i crolli che si ricordano di un ponte in quella zona, quindi vuol dire che è un fiume che talvolta raccoglie tanta acqua. Sì, sicuramente le vicende che legano i ponti sul fiume San Bartolomeo portano sempre a dei collassi delle strutture dovute alle piene. Dobbiamo ricordare che il bacino che porta acqua alla foce del San Bartolomeo è un bacino molto grande. Parte da Gibellina, da Salemi, attraversa tutto, parliamo di almeno 30-40 km di asta fluviale con un territorio molto ampio. Quindi con eventi piovosi molto intensi tutta quest'acqua poi si concentra ovviamente alla foce. Il ponte in pietra, quello caduto mi pare intorno agli anni 50, aveva tre arcate, quindi vuol dire che già a quell'epoca c'era abbondante acqua in alcune occasioni in quel fiume? Sì, sicuramente per progettare quel ponte a tre luci dal punto di vista tecnico e due pile, chi lo ha progettato ha tenuto in considerazione appunto la necessità di fare passare, di tenere libere tre arcate del fiume affinché durante le piene, gli eventi diciamo più abbondanti, quest'acqua potesse liberamente passare. Aggiungo una cosa, anche questo in cemento ha tre luci presenti e due pile. Il problema è che poi le luci laterali, gli spazi laterali nel corso del tempo vengono quasi ostruiti o i canneti o materiali di risulta o perché la gente amplia i propri terreni per coltivarli? Beh, questo è stato ampliato artificialmente, questo si potrebbe verificare attraverso uno studio del territorio anche con l'ausilio anche di foto aeree, tra l'altro ne vedremo una del 41, molto bella per cui si vede il territorio della foce come era e soprattutto anche la parte più all'interno, più o meno all'altezza dove c'è il ponte sulla tua strada e si vede appunto il letto del fiume che è molto ma molto largo, quindi vuol dire che la natura lo aveva organizzato per accogliere grandi quantità di acqua. Sicuramente il fatto che le due luci laterali siano state ingombre da terreni, depositi e materiali ha fatto sì che in occasione di questo evento tutto si sia concentrato a modo imbuto sulla luce, sull'arcata centrale creando mulinelli, chiaramente un turbinio d'acqua tale che di fatto pila, cioè il pilone della sinistra idraulica, a furia della violenza delle acque, ha tolto proprio il terreno al di sotto delle fondazioni. Perché adesso il terreno è meno impermeabilizzante, non passa più acqua? Sono state costruite troppo strade, centri abitati, palazzi? Diciamo che ci sono due aggravanti, al di là dei cambiamenti climatici che prendono a piede, insomma un argomento attuale. Se noi andiamo a vedere il bacino idrografico di questo fiume addirittura abbiamo una città nuova che prima non c'era, quindi un terreno che prima assorbiva acqua e invece oggi è totalmente impermeabilizzato come gibellina nuova. Possiamo parlare dei nuovi quartieri di Salemi che prima non c'erano, della contrada Sasi di Calatafimi che è fatta anche all'interno di questo bacino, di tutte le zone anche industriali dell'espansione della città di Alcamo. Tutte zone totalmente cementificate e impermeabilizzate, tetti, strade, piazzali, che fanno sì che l'acqua che piove non si infiltra più ma si scarica violentamente e soprattutto immediatamente verso il fiume.